Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale a un nuovo video. Io sono Marika in arte a postmoderna e oggi parliamo di Tomorrow in Tomorrow in Tomorrow di Gabrielle Zevin. Ci prendiamo questo spazio per parlare di un romanzo piuttosto chiacchierato sia l'anno scorso all'estero che poi quest'anno in Italia. Tra l'altro, Bertina, secondo me, bellerrima. Insomma, anche l'occhio vuole la sua parte. Fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate o se lo leggerete poi tornate qui per dirmi i vostri pensieri. Ho aspettato un po' a girare questo video per aspettare appunto che tutti lo leggessero e adesso ne parliamo insieme. Allora, Tomorrow in Tomorrow in Tomorrow, intanto lo poso perché altrimenti il mio povero polso. Tomorrow in Tomorrow in Tomorrow parte da un concept che a me piace tantissimo in letteratura. Ovvero due o più amici che si uniscono, uniscono le proprie forze e danno vita a un progetto creativo. È il caso dei romanzi come Le Fantastiche Avventure di Cavaliere Clay, di Michael Chabon, in cui lì erano due cugini, non due amici, però insomma, sempre buddies sono. Insomma, i due protagonisti danno vita a un fumetto, creano un fumetto nell'età d'oro del fumetto americano-statunitense. Oppure, più di recente, Harry Sosman con il suo Radio Silence, in cui due protagonisti danno vita a una serie podcast, o meglio, la protagonista inizia a contribuire alla serie podcast di quello del suo amico, di quello che diventerà uno dei suoi migliori amici. O ancora, Nefando, di Monica Hojeda, dalle tinte decisamente più dark e horror, come anche dal titolo, in cui un gruppo di, non propriamente amici, ma i coinquilini danno vita a un videogioco, a un videogioco e a dei progetti culturali a esso correlati. Quindi, Tomorrow and Tomorrow ha più le vibes da Michael Shabon, prende più da Michael Shabon, e non dico da Ellis Osman, perché, insomma, secondo me il target è diverso, è anche forse l'intenzione, però mi ha ricordato moltissimo Michael Shabon e il romanzo postmoderno di Michael Shabon, anche se le tecniche postmoderne che Gabrielle Zevin utilizza come la struttura particolare, in capitoli abbastanza particolari, con differenti punti di vista, devo dire che non l'ho trovata chissà quanto innovativa, cioè ha preso a prestito delle tecniche postmoderne che io ho ritrovato, ad esempio, in Michael Shabon, ma senza particolare innovazione. Comunque, andiamo più nello specifico della trama di Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, senza fare spoiler. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow è la storia di Sam e Sadie, due amici fin dall'infanzia e, come spesso succede alle amicizie d'infanzia, i due si perdono di vista. Si perdono di vista per tot anni a seguito di un litigio, anzi di un'incomprensione, ma va, ma non mi dire, e si riuniranno, si rincontreranno durante gli anni universitari quando entrambi stanno per fare della loro passione in comune per i videogiochi un vero e proprio lavoro e si metteranno a produrre videogiochi insieme e fonderanno anche una casa di produzione di videogiochi che diventerà piuttosto famosa. Sam e Sadie rappresentano molteplici facce che possono avere i videogiochi, le molteplici metafore che possono avere i videogiochi. Sadie vede nei videogiochi un'occasione per riscattarsi in quanto donna all'interno di un ambiente, quello videoludico, fortemente maschilista e per lei discriminatorio. Ad esempio, nel suo punto di vista, troviamo un ambiente universitario piuttosto ostile e discriminatorio soprattutto verso le donne oppure per quanto riguarda la scelta dei protagonisti dei propri videogiochi, dei videogiochi che i seri svilupperanno insieme a Sam è sempre molto centrale il discorso del genere. Pensiamo anche soltanto oggi quanti videogiochi vengono recensiti negativamente oppure non viene data nemmeno un'occasione perché hanno una protagonista femminile. Forse questo era più sentito negli anni 90 come tematica però pensate soltanto a quanti videogiochi vengono recensiti negativamente abbiamo il fenomeno del review bombing perché secondo questi videogiocatori questi videogiochi presentano delle tematiche scomode eccetera eccetera quindi questo discorso l'ho trovato molto attuale. Dall'altra parte abbiamo Sam Sam arriva da una condizione economica non proprio agiata anzi e vede nella produzione di videogiochi l'occasione invece di un riscatto finanziario un riscatto economico quindi di un level up della propria posizione e infatti le decisioni che Sam prenderà e i litigi che avrà con sedi durante la produzione di videogiochi verteranno soprattutto sul lato più economico, pragmatico sono entrambi due protagonisti che a volte vorresti prendere a sberle però hanno delle motivazioni veramente profonde tutto parte dalla loro personale visione dei videogiochi e dalla propria personale esperienza di vita. In questo Gabrielle Zevin ha fatto un ottimo lavoro di caratterizzazione dei personaggi perché i loro caratteri vanno poi a riversarsi nella storia, nel loro modo di vedere i videogiochi e nella produzione di videogiochi. Il litigio che ha separato per così tanto tempo Sam e sedi non è l'unico litigio che Sam e sedi hanno avuto anzi ne avranno altri mentre svilupperanno i videogiochi perché sono due mondi certo molto vicini che si vogliono bene a vicenda ma sono anche due mondi molto forti e molto personali e nessuno dei due vuole cedere il passo vuole perdere una parte del proprio mondo della propria visione che ha così faticosamente costruito o ritrovato. In questo il lavoro di caratterizzazione dei personaggi è quasi ottimo a mio parere che cosa non mi ha convinto appieno perché arriva la parte dolente adesso. Allora, come vi accennavo all'inizio devo dire che lo stile e anche la tecnica di scrittura non mi hanno colpito particolarmente ci ho ritrovato tanto Michael Chabon in questi prestiti, in questi calchi stilistici e poco Gabriel Zevin ho trovato la voce dell'autrice molto più autentica nella scrittura di dialoghi che scorrono e allo stesso tempo mettono in evidenza i conflitti tra i personaggi non soltanto tra i due protagonisti ma anche con altre persone che li circondano ad esempio Marx che è il coinquilino di Sam che contribuisce alla produzione di videogiochi e nei dialoghi emergono i conflitti tra i personaggi questo io lo riconosco all'autrice che viene dal cinema o comunque da un mondo in cui il dialogo la scrittura del dialogo è importante e si vede che arriva dalla sceneggiatura per quanto riguarda invece la prosa i momenti di prosa spesso secondo me si perde in calchi postmoderni che non danno tanta innovazione o quantomeno non riescono a rendere chissà quanto contemporaneo il testo almeno a mio parere per quanto ho letto io abbiamo ancora molto mostrato purtroppo abbiamo più che il mostrato perché il mostrato ben dosato a me devo dire non disturba particolarmente abbiamo dei veri e propri riassunti di ciò che è successo in precedenza o di momenti della vita di uno o dell'altra protagonista che non abbiamo vissuto non abbiamo letto in prima persona e questo riduce di tanto davvero davvero tanto l'immersione e questo è un vero peccato certo è un libro dalla struttura abbastanza complessa perché procede per flashback prima e flashforward poi ci sono a volte delle vere e proprie anticipazioni di ciò che succederà ad esempio quando i due personaggi litigano l'autrice ci anticipa che dice ad esempio quello sarà l'ultimo litigio tra i due protagonisti ma perché me lo devi dire ma perché me lo devi dire adesso è ammazzare la tensione la tensione che stai creando già a fatica ecco quindi è un bellissimo romanzo d'atmosfera con con tutti i riferimenti anche al mondo videoludico degli anni 90 poi se amici di Metal Gear Solid Snake e anche le problematicità di Metal Gear Solid Snake a livello di storytelling e di rappresentazione soprattutto femminile io ti voglio bene però ecco è molto è molto d'atmosfera è molto concettuale e poco poco immersivo poco giocabile ok è un romanzo poi che copre quasi l'intero arco della vita dei due protagonisti perché non dico che li vediamo crescere perché ci sono dei momenti che noi non leggiamo in prima persona ma comunque attraverso flashback e flash forward forward ce la posso fare flash wow è quello che stavo dicendo e flash forward li seguiamo per quasi tutto l'arco della loro vita e capisco l'esigenza di comprimere in in scene riassunte capisco questa esigenza però sono sempre dell'idea che si può fare meglio in definitiva io questo romanzo l'ho trovato per utilizzare una metafora videoludica un open world con tutti i problemi del dell'open world di questa di questa tipologia di videogiochi che devo dire ha rotto un pochino cioè ha rotto un pochino le scatole non so voi almeno a me a me sì perché la mancanza di paletti la mancanza di regole all'interno di questa tipologia di videogiochi e che ovviamente non quelli non gli open world ben fatti la mancanza di regole la mancanza di un obiettivo unico ti fa perdere una serie di missioni obiettivi indefiniti ricerche che non portano a nulla se non appunto a completare una serie di obiettivi minori che però non concorrono sempre anzi quasi mai all'obiettivo finale perché non c'è un obiettivo finale e quindi qui come si traduce in in prosa come si traduce all'interno di questo romanzo si traduce in una serie di episodi per carità per carità anche belli da leggere una serie di episodi che riguardano la vita dei protagonisti dei due protagonisti che in sé contribuiscono certo a caratterizzarli in sé per carità sono anche molto cosi da leggere sono molto teneri sono ad esempio episodi che riguardano la loro infanzia insieme o singolarmente episodi che riguardano ora il percorso di uno il percorso dell'altra ora il percorso di entrambi assieme nella sviluppo nella produzione di videogiochi ma che non concorrono a un'unica forte tematica non c'è un valore tematico forte e quando all'interno di un libro non c'è un valore tematico forte non puoi come posso dire non puoi recuperare recuperare questa mancanza con una serie di tematiche minori ma non perché sono minori in sé ma minori rispetto alla storia perché sono circoscritte a pochissimi pochissimi episodi della vita dei protagonisti quando non c'è un valore tematico forte le altre tematiche trattate risultano delle isole ok delle isole che esplori come appunto fosse un open world e poi però dove si va manca una rotta manca una rotta ben definita e manca perché non c'è un valore tematico forte certo c'è c'è il videogioco ma qual è la visione tematica forte unica del videogioco perché abbiamo la visione di Sadie la visione di Sam abbiamo anche la visione di Marx dei personaggi che circondano i nostri protagonisti ma il videogioco in sé non è una tematica manca appunto un valore forte dato al videoludico perché il videoludico qui viene riempito in una serie di metafore anche contraddittorie va benissimo molto affascinanti ma ne manca un'unica solida e mancando questo manca anche di potenza narrativa oltre che di immersione per però quello per motivi più propriamente stilistici quindi ecco questa è la mia opinione fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo al prossimo video ciao grazie dell'attenzione rimani ancora con me guarda un altro video e iscriviti al canale a presto ciao ciao